Mentre affrontiamo i gravi problemi e le minacce esterne che provano a indebolire il nostro continente, dobbiamo ricordare anche quello che ci indicava il grande Tommaso d'Aquino, che il male non è il contrario del bene, ma è la privazione del bene. Il compito per noi parlamentari sarà quello di non privare l'Europa del bene, ma al contrario lottare per esso con determinazione e serietà. Dobbiamo riportare fiducia e speranza per dare all'Europa un ruolo centrale e di guida in un mondo che è frammentato ed incerto.